Mario Bagnoli, stiamo ricordando un po' anche quello che è stato il connubio tra la ristorazione questo tipo di ristorazione che hai fatto tu e il calcio rosso-blu di giocatori, di allenatori ne sono passati tanti so per esempio che tu sei il compare di Gigi Cialantini è proprio battezzato e crescimata Eva, la figlia che vive a Bologna però insomma ce ne sono tanti altri ma tutti, tutti, non ci sta a dicembre è tornato a Campobasso dopo 31 anni Mario Coretti a parte i pianti quando mi ha incontrato Mario Coretti si è messo a piangere ha pianto un giorno e mezzo però appena ci siamo incontrati si è fatto un pianto, poi mi ha detto ma... quindi l'ha fatto anche con te il pianto sì certo, è la prima persona che ha incontrato perché è venuto a posto, è venuto a posto per venire a Telemolise nel cuore che c'è stato il 6 dicembre con Edoardo Pianello e poi ha detto ah basta trovare Mario abbiamo detto di Biondi, abbiamo detto di Scorrano Piagetti, Maragliulo, ma che più ne ha più ne metti io con i giocatori, ma anche quelli che giocavamo in quarta serie prima di andare in C1 sono tutti amici, rimasti amici e ci sentiamo sempre, ogni tanto ci sentiamo sempre sicuramente, poi però insomma ci sono stati anche questo diciamo è stato il periodo d'oro del Campobasso non ho con questi nomi che hai fatto tu però insomma ci sono stati anche successivamente delle società sono venuti a chiederti di ospitare dei giocatori però insomma non è andata tanto bene mi dicevi prima, no? Allora l'ultima volta che non mi ricordo Petrucci, come si chiamava quello? Guarda io non me lo ricordo no questo è il Campobasso è una scelta mia, non lo voglio nemmeno nominare Allora questo signore è venuto qua io gli ho detto senti io con il calcio ci ho rimesso troppo di salute e di soldi ha detto no no, guarda per venti giorni andò questo lo devo dire apertamente questa è una cosa che andrà in onda per venti giorni aveva fatto ottocento e quattro pasti per farti capire che cos'è Mario Bagnoli con la sua famiglia ottocento e quattro pasti gli ho detto guarda io lo faccio perché abbiamo anche delle spese tutto a posto non ti preoccupare Mario non ti preoccupare alla fine dopo venti giorni facciamo i conti dieci euro a pranzo cioè da ottocento e quattro pasti me ne sono fatta pagare settecento mi avrebbe potuto dare settemila euro alla fine mi hanno dato 3500 euro e non ho visto niente più una mattina trovo questo signore insieme a Antonio Minadeo lo dici sempre tu perché io sono persone che no no vabbè Antonio Minadeo poveretto non già colpe non già colpe sì ma sono persone che ho cancellato veramente dalla allora a un certo punto gli ho detto scusa tu mi devi dire una cosa a me no a campo basso chi è che ti ha trattato come me ti siamo venuti in conto ti abbiamo aiutato mi sono messo a disposizione ah sì sì hai ragione non ho visto più niente sono cose che ti mortificano perché per esempio noi nella città di Campobasso massima aspirazione che possiamo avere è la C1 ma questo signore che ci sta adesso che mi dicono che è una persona verbena questo non lo ricordo come si chiama che è Gesùè Mario Gesùè è una persona che sta facendo di tutto per cercare di aiutarci lo dobbiamo aiutare lo dobbiamo aiutare comprenderemo sono domeniche che stavano una marea di gente al campo sportivo era la mia gioia così dovremmo fare sempre il calcio costa tu ne sai qualche cosa il pallone costa costa però insomma ti dà anche diciamo dei ritorni è uno sfogo di bocca per i giovani eh sì però cioè per esempio anche chi lo gestisce calcola che per esempio De Laurenti se ti faccio un nome a caso ha prodotto 200 film ma la popolarità in positiva e in negativa sì 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 cioè nel calcio ci sta che i tifosi sono contenti o scontenti però la popolarità che ti dà il calcio non te la dà probabilmente nessuno la stessa cosa preziosi che ha una fabbrica di giocattoli a Como è napoletano è proprietario del Genoa e potrei continuare insomma con una serie sì sì anche diciamo Falcione Molinari no? che secondo me sono stati i migliori i più rappresentativi allora tu hai visto che tu hai toccato Falcione Don Luigi Falcione una persona per bene sì sì lui e i figli pure sì allora Don Luigi è stato il primo a creare il calcio a Campobasso con serietà con onestà se ti ricordi c'era Maione quello ogni mese Tomasino ogni mese mandava a Tomasino Maione quanti soldi doveva avere Mari e pagavano allora io purtroppo sono arrivato a fare un credit di 150 milioni gli anni 80 a Campobasso che erano soldi all'epoca quando andavo a pagare l'affitta Molinari una volta mi dice Don Antonio io non ce la faccio più non posso sostenere più e lui era convinto era convintissimo che il signor Mastropaolo mi avrebbe sempre pagato cosa che Peppe siamo amici andò come sei amico tu e amico Mastropaolo mi ha messo in una condizione che non mi potevo muovere più se ti ricordi all'epoca vendemmo Trevisan e tacchi al Genova e abbiamo preso una barca di soldi per noi perché noi siamo una piccola società allora mi chiamavo e dice Mario allora ti do qualche cosettina però aiutami perché copriamo le altre spese e poi ti aiuto su quelli ci abbiamo messi gli altri su quelli ci abbiamo messi gli altri ancora alla fine quando è finita la società io non ho visto niente sei stato uno dei più grandi sponsor del campo ma se uno lo fa con tutto il cuore io con tutto il cuore certo ma non ti sei mai lamentato ma non ti stai lamentando nemmeno adesso perché io tengo uno scaffone purtroppo io siccome stavo molto attaccato con Antonio Molinari ora ti devo raccontare un altro episodio l'ultima volta che è venuto Gigi e Ciappi sì allora dice mangiarono qua e dice ora andiamo a salutare il presidente questo sabato sera andarono là a Parche dei Pini dove c'aveva la casa dice no non c'è si vede che è uscito domani mattina veniamo qua facciamo collezione e poi andiamo un'altra volta là la domenica mattina sono andato là e neanche lì è aperta lui stava in casa andò ma perché ma tu ti ricordi come stava ridotto Nandone Molinari io l'ho visto però poco di poco era un barbone eh pochi giorni io l'ho visto un paio di mesi prima che allora non si è voluto far vedere da Gigi e da Ciappi questa è una cosa che mi mortifica raccontare queste cose ma è la verità un anno è stato pure candidato non per riembitivo al senato al comune di Campobasso al comune no al senato no al senato sai quanti voti ha preso Molinari dopo tutto quello che ha fatto per Campobasso 33 voti questa è la riconoscenza che noi molisani abbiamo dato a Molinari va beh senti parliamo di di un'altra cosa parliamo del del tuo settore perché insomma in qualche maniera questo fatto che tu sei di Campobasso poi lo trasferisci anche in quello che che offri tutti i giorni ai tuoi clienti no? ai forestieri ai forestieri quindi il forestieri proprio ieri è venuto non so un gruppo per esempio i Torcinelli che ne so li fai i Torcinelli? tutto facciamo noi pizza e minesto per esempio io mi voglio bene con tutti quanti stimo quelli migliori di me quelli peggiori di me non dandola stimo come dici tu voglio dimenticarli perché molti sono improvvisati io mi voglio bene con Concetta con i figli con Fabio con Lucia con Antonio con Giovanni mi voglio bene con tutti quanti andò Concetta è mitica non ci sta non ci sta niente di male allora noi per esempio io a Campobasso cerco di offrire e dico ai forestieri allora il vino che produciamo nel Molise è buonissimo le mozzarella la pasta la molisana che sta prendendo piede a livello mondiale quindi tu qua usi soltanto prodotti l'olio io uso prodotti nostri tutti i prodotti nostri molisani e a livello di pietanza per esempio ieri per esempio ieri sono venuto dei forestieri non so che facevano qualche cosa perché c'erano delle camere pure loro non so che cosa erano una di queste persone era una donna ma di una gentilezza di una squisitezza che poi alla fine ha ringraziato mille volte ma ha mangiato pizza e minestra la scamorza rosso con la salsiccia di fegato sono cose che noi dobbiamo cercare di valorizzare non è facendo la cipolla con lo zucchero o facendo i disegnini diceva il mio maestro queste fanno i disegnini e ti prende per i fondelli noi io valorizzo la carne mia che è molisana sia la vitella sia l'agnello sia la salsiccia tutta roba molisana i formaggi le scamorze il ragù gli involtini che faccio io quanto tempo ci vuole per fare un ragù diceva il grande De Filippo adesso qua qua riavo avevo cuocere 4-5 ore a fuoco lento la cucina Antonio non vuole la fretta la cucina buona per essere buono ci vuole un pezzettino di un po' di tutto allora io faccio le braciolette ci metto la salsiccia ci metto un po' di pancetta ci metto anche l'agnello tutto misto il vero ragù e le lasagne e le lasagne facciamo dicono dagli altri non è giusto che lo dica io me ne guarderei bene per l'amor di Dio non voglio sembrare presuntuosi perché non lo sono le lasagne in brodo io dovrei essere il re di queste le lasagne in brodo perché la facciamo se in modo inverno la facciamo tutte le domeniche le lasagne rosse classiche la bolognese e noi ancora facciamo le polpettine però vedi questa è fatta dalla bolognese no noi ancora facciamo le polpettine le lasagne alla bolognese per capire che cos'è poi facciamo le lasagne con i funghi porcini in bianco le lasagne con i carciofi con la crema di carciofi le lasagne in brodo le lasagne con le melanzane la classica lasagne con le polpettine con il ragù e l'uovo il parmigiano ci stanno pure l'uovo e so quindi pizza e minestra pizza e minestra i torcinelli però devi sapere dove li prendi no i torcinelli veramente prima li facevamo io e mia moglie lei lavava le budelle poi c'è una ragazza che ha lavorato con me che è bravissima e pulita perché se no non si potrebbe fare poi io faccio un agnello di sossato farcito cosciotto ci tolgo le ossa vabbè io lo so il cicotto di agnello lo facciamo sempre e quello che va per le maggiore per i forestieri sono le mozzarella da fare arrosto che lega o col prosciutto o con le salsicce lo stesso la gente le apprezza molto e dobbiamo ringraziare l'università perché qua diciamo che la domenica lavoriamo molto con i pugliesi noi siamo grazie a Dio una marea di gente dei pugliesi pochettini pure dal Beneventana ma molti sono pugliesi senti attualmente collaborano perché tua moglie poi l'abbiamo nominata tante volte ma come si chiama mia moglie è stata a fianco a me da 50 anni da quando ho aperto dalla mattina alla sera siete sposati da da 52 anni lei è sposata da 52 anni ha fatto 52 anni di matrimonio io sono stato assente anche ingiustificato pessimo soggetto sono state gomito a gomito lavorate in cucina notte e giorni poveretta non è che hai fatto il cuoco a Dussel io sempre è questa no no ho girato molto andò ma io lavoro da quanto ne ho 12 anni ho fatto la terza alimentari non elementari la terza alimentari è a lavorare è brava a scuola a Dovidio a Dovidio che ora sta chiusa peccato anche perché quello non crolla quello l'hanno fatto gli austriaci quella non è roba italiana quello l'hanno fatto gli austriaci quella non crolla quindi quella non crolla non crolla tra tutte tra tutte le persone che insomma qui si fermano spesso anche degli artisti no gente che fa spettacoli io in 50 anni ho avuto il piacere l'onore di avere i più grandi attori attrici e attori italiani ma quando vengono com'è allora per esempio c'è Gianbranco D'Angelo che mangia con le mani è quello che ha scritto pure un libro non riesco a trovarlo ancora mangia tutto con le mani ma ho avuto il piacere di avere Silvia Coscina ma la donna più bella che mi è rimasta nel cuore è Liana Orfei era erese del circo no? 45-46 anni fa vennero a fare uno spettacolo all'Aristone quando se ne andò verso le 3 di notte allora si lavorava andò allora quando apri la porta quando mi sono girato devo guardare mamma mia una quercia che Dio la benedica è mia moglie purella che la benedica sembra lavorare però mi ha sopportato per una vita e quello che gli deve dar merito a mia moglie anche per il calcio Antonio non si è mai messo in mezzo perché se ero una di queste donne moderne mi avrei potuto cacciare fuori a calcini in culo diciamo che se non ci fossero stati queste diciamo elargizioni gratuite al mondo del calcio a questo punto avresti mia moglie è un cameriere che tenevo qua tu pensi che non la domenica quando stava il calcio qua lascevamo tutto la sala piena di gente tu sei un frequentatore quindi lo sai la domenica io lavoro molto la sala piena di gente ce ne andavamo io mio padre tutti e due i fratelli lasciamo tutti mia moglie e il cameriere poi io ho il pallone ma com'era la canzone la domenica a Campoasce la domenica a Campoasce quanta gente va a vedersi la partita poteva mancare la famiglia Bagnoli per esempio è la stessa cosa questi che hanno fatto questa canzone sono molto amico Gino e Gino Gino e Gino me li voglio ricordare Cogine sì sì sono brave persone senti ma i tuoi figli Andrea Costantino Andrea e Costantino stanno qua Costantino sono due che portano Costantino fare che ti lamenti no 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 solo che siamo troppe e troppe attività tu sai che a Campoasce siamo oltre le 200 ristoranti e pizzerie troppe esagerate però poi l'hai detto tu poi ci sta la gente che fa la differenza no perché ci può capitare una volta se mangi male ci fai una volta e arrivere sicuramente non ci fai più ma anche per non dare l'immagine per esempio io mi sono sempre chiesto il perché la domenica a Campoasce sono tutti chiusi e non lo so se non lo sai tu che hai fatto il presidente non lo so e tra parenti per esempio domenica scorsa sabato scorsa mi ha chiamato un signore disperato che aveva un gruppo di Bergamo non so se 15 o 25 persone non riusciva a trovare una trattoria aperta per fare la maniera domenica sera perché noi purtroppo siamo chiusi purtroppo ci riposiamo solo mezza giornata la settimana la domenica sera la domenica pomeriggi non ci fanno quindi stanno tutti chiusi e ci lamentano tutti che non ce la facciamo quindi tifoso del Campobasso gioco a forza a livello di squadre di chi altro sei tifoso io sono della magica dalla Roma dalla magica tu sei della Fiorentina no ma io sono della magica ma è una squadra pulita ex magica o no? no insomma tanto pulita ci sono stati 7-8 anni che hanno fatto le carte false per far iscrivere la Roma ma sai perché andò? perché? perché noi tutte quelle di buone che abbiamo lo diamo sempre agli altri i romani tu sportivamente parlando no? vedi un pochettino i portieri del Liverpool per te fare un esempio di chi era? ah Aniston quello che segna un sacco di gol di chi era come si chiama? non mi ha manco le cose no Aniston no è quello che segna un sacco di gol che ora sono tre partite che perdono Liverpool non erano tutte roba nostra sarà sì è passato pure da Firenze sarà per dire che facciamo? siamo una piccola società andò come a Campobasso secondo te riusciremo ad avere un altro molinato a Campobasso? non lo so spero di sì che ti devo dire io forse sono troppo anziano però io per esempio in questa società che c'è adesso grande grande fiducia perché hanno ripianato una situazione debitoria pesante pesante molto pesante stanno regolarmente pagando tutto quello che devono pagare non solo i giocatori ma tutto quello che devono pagare io mi auguro che veramente possa concludersi questo percorso perché no con un ritorno in Lega Pro perché ritornare ce lo meritiamo tra parere noi ce lo meritiamo perché siamo una bella città per incontrare di nuovo città perché sono anni che incontreremo di nuovo Catania Catanzaro allora scusatemi mi devo far odiare dai Campobasani se il Campobasso riusciamo a risalire un'altra volta è un benessere per la città Antonio quando stavamo in Serie B da Lecce arrivava un pullman 40-50 persone una volta ti ricordo eravamo 6-7 giocatori di Lecce sì come no venivano 50 persone è chiaro che poi bisognerebbe aprirlo qualche ristorante come hai detto tu allora la gente dice noi ci lavorevamo ma era un lavoro per tutto l'indotto perché se lavora il ristorante lavora la frutta lavora la carne lavora la pasta lavora il pane lavoriamo tutti quanti senti ma mi veniva in mente ma tuo fratello Caribù l'altro fratello Pelè tu non ce n'hai di sopra a noi no ma io andavo ti sei nascosto bravo ecco la parola santa io andavo ho fatto questo lavoro da 55 anni entravo la mattina in cucina e uscivo la sera mezzanotte e luna io non mi ricordo io non so ballare non perché non mi piace ballare ma perché non ho avuto mai il tempo di andarci perché ora c'è il riposto settimanale ma il tempo mio è il riposto in sistema noi finivamo la domenica sera ricominciavamo il lunedì mattina tutti i giorni che ha fatto addio va bene io sai come ho conosciuto mia moglie un anno un anno mi sono bisicciato col mio maestro che ricordo con affetto e mi ha dato una settimana di ferie io me ne andai dai nonna affossato e ho conosciuto mia moglie se no chi ha fatto mai le ferie chi le sa che sono ho capito allora in poi poi è nato vabbè 52 anni di matrimonio eccetera eccetera sono 60 anni che ci conosciamo ci siamo fidanzati nel 1960 al 14 anni già ero fidanzato in casa vabbè però insomma a me adesso tu voglio io non voglio entrare però insomma anche con me ti conosci da insomma buoni 40 da una vita da una vita va bene allora Mario Bagnoli quindi questa è stata la nostra la nostra chiacchierata che è dirti in bocca al lupo io ti ringrazio a te ringrazio la tua famiglia i tuoi figli che sono educatissimi rispettosi tutti e due li voglio bene la tua signora e io mi auguro Antonio Di Lallo a te e tutti quelli che lavorate per il bene di questa regione la voglia è bene proseguite così che è una cosa bella il calcio non è niente anche senza il calcio si può vivere però è uno sfogo per i giovani è uno sfogo cercate di portarlo avanti che è un'esercizio che è un'esercizio che è un'esercizio un'esercizio